ciao e bentornati amici di nuovo qua 20 20 di dicembre quindi mancano pochissimi giorni a natale 24 la vigilia il 25 è il giorno di natale ci accompagna e ci hanno accompagnato fino adesso un bellissimo calendario dell'avvento della fungo e elenchiamo solamente e poi abbiamo l'ultimo che abbiamo trovato è stato mal foy quindi li vedremo poi tutti uno ad uno nella puntata finale del 24 sperando che il 24 ci sia qualcosa di bello allora che cosa può essere ron oggi ron manca solo lui del gruppo è sembra grosso quindi non è ron non è ron ci fanno aspettare per ron perché ci hanno dato ermione subito luna subitissimo i fratelli weasley e la sorellina weasley prima e ron non ce lo danno silente silente adesso ma silente era da 24 e cosa ci mettono il 24 è qualcosa di più spettacolare però è bellissimo vi è leggermente metallizzato metallizzato mi viene il nome guarda qui gli occhiali bellissimo bello ma non bellissimo nel senso che l'avrei preferito un po più dinamico con in mano qualcosa insomma le braccia aperte ma non sappiamo se hanno fatto anche l'anno scorso degli altri calendari dell'avvento il 23 c'è harry potter dorato e trasparente e silente dorato oppure un terzo harry potter con le vigie sulla spalla o qualcosa di un pochettino più complesso più grosso non lo so sono curioso di arrivare al 24 perché mi hanno tolto silente che io avrei messo il 24 e adesso se li dubbi non di certo ron secondo me ron e pito e poi gli ultimi due boh qui è crollato qualcosa è crollato qualcosa benissimo in camera la cosa è positiva e vi ricordiamo uno di iscrivervi al canale di schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video mettere un like e noi come sempre vi salutiamoci al prossimo video ciao